Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a un nuovo trade sul mio conto, trade sempre condiviso con gli utenti Platinum in questo caso si tratta di sterlina dollaro in vendita, in questo momento è stato appena venduto dopo la price action di qualche giorno fa sul grafico giornaliero e ieri praticamente si è venuta a creare una dinamica su grafico 4 ore molto molto interessante, ovvero il movimento che appunto ha generato il doppio massimo lower e in questo momento una situazione chiara di vendita che è venuta a crearsi proprio in area 24,50 quindi inizialmente il mio entry level era qui sotto, questa mattina ho deciso di migliorare la mia entrata al di sotto di questo minimo che corrispondeva in linea di massima poco sopra il 1,24 lasciando lo stop sempre invariato sul swing corretto che poi sarebbe il massimo di giornata di ieri in questo caso il rapporto di risk reward è molto interessante sull'obiettivo tra l'altro abbiamo in questo caso l'area verde che vedete qui, le estensioni verdi sono del pattern a 4 ore e invece le aree blu sono le estensioni del pattern daily e in questo caso come potete vedere ci sono delle situazioni molto molto chiare che sono praticamente T6, T5 e T3 che corrispondono praticamente con anche tra i due pattern cioè da 4 ore a daily, quindi molto interessante questa confluenza io ho deciso, preferito di inserirmi a T6 del pattern a 4 ore e T5 del pattern daily come obiettivo, oltre 1 a 3 risk reward, poi ovviamente la gestirò durante il movimento a ribasso se ci sarà pur avendo un T6 guardate del daily che arriva direttamente sui minimi proprio interessanti quindi è possibile anche nel tempo possiamo vedere un movimento anche verso questo livello però al momento direi che questo è l'area più interessante anche da un punto di vista di redditività del trade bene, quindi per oggi è tutto e ci vedremo poi con la continuazione del video nel prossimo un saluto eccoci arrivati al secondo video della posizione su cable strina dollaro, oggi è lunedì quindi venerdì è entrata questa posizione e faccio questo video perché ho spostato da poco il mio stop a break even sui massimi giornalieri ma in realtà sono anche i massimi di swing eccoli qua del movimento di swing sul 4 ore, probabilmente riuscite a vederlo meglio quindi l'ultimo swing importante è stato questo l'altro importante è stato questo che avevo posizionato lo stop poi c'è stato un mini swing piccolino qui e poi l'ultimo swing è stato questo tra l'altro con FTV power è stata rotta a ribasso e quindi bene a questo punto quindi posso mettermi a free risk mi sono messo poco migliorativo al break even tanto da pagarmi le commissioni e proviamo ad andare a target diciamo, se dovesse chiudere in questo modo il daily o anche più ribassista diciamo che in linea di massima avremo sicuramente una ottima possibilità per andare a target che ricordo il target è superiore a 1 a 3 1 a 3 e 15 in qualcosa del genere quindi ogni euro rischiato vale 3 euro e 15 molto molto buono come risk reward al momento quindi free risk la posizione non può più perdere ma può invece farci guadagnare tanto in questo momento fate conto che sto superiore all'1,1,5 1,1,1,70 circa di risk reward in questo momento quindi sicuramente molto molto interessante vedremo, vi farò vedere insomma nei prossimi video che cosa è successo però intanto stiamo a proteggere la posizione e vedere di riuscire ad andare a target io vi saluto e ci vediamo al prossimo video salve a tutti eccoci arrivati al terzo video della posizione su sterlina dollaro e come vedete non c'è più nel senso che quando il mercato era diciamo su questa zona quest'oggi ho deciso di chiudere prematuramente non rispettando diciamo il target però il tipo di volatilità che c'è stata molto forte nelle ultime tre giornate e il movimento poi di minimo fatto mi ha fatto decidere che tra l'altro un rischio di rendimento di circa 1 a 2 un pelo meno di chiudere diciamo l'operazione e poi magari di rivedere su un nuovo swing volevo capitalizzare il movimento visto anche la rapidità con la quale l'ha fatto la chiusura del mese che raggiunge quasi il 6% di profitto sul platinum e quindi ho preferito insomma andare ad incassare questo trade io a questo punto vi saluto e ci vedremo al prossimo ciao a tutti buongiorno a tutti volevo mostrarvi un'operazione che si è aperta in mattinata in trading room nel platinum prima operazione di luglio tra l'altro allora in questo caso ho fatto un mix questo intanto è il cambio euro sterlina il settimanale aveva mostrato una barra di short quindi una barra di inversione almeno momentanea dei prezzi che potrebbero arrivare almeno inizialmente fino a questa zona qui 0,89 quindi weekly impostato nell'ambiente short il daily ha mostrato una price action short eccola qui proprio l'altro ieri due tre giorni fa arrivo lunedì nella zona 0,9050 area di offerta movimento short che ha creato appunto i presupposti per cercare delle entrate short ieri c'è stata una barra di indecision inside molto interessante e proprio quest'oggi su grafico 4 ore si sono venuti a creare i presupposti per entrare quindi conferma di dinamica 4 ore sono entrato short con un ordine proprio qui a 0,8980 circa con uno stop praticamente su queste aree che dovrebbe essere 0,9013 se non sbaglio in questo caso quindi conferma dal weekly al daily al 4 ore dinamica molto interessante di price action e obiettivo come potete vedere ho inserito l'obiettivo sul T6 i nostri target di estensione a 4 ore di questo doppio massimo lower a 0,89 era il livello mio settimanale al T6 corrisponde praticamente leggermente superiore e il daily se vado a mettere il setup quasi FTV power di queste due crea il T3 proprio nella zona sempre quella 0,89 quindi questa confluenza di prezzo il tipo di livello la dinamica short mi ha fatto fare questo trade e condividerlo ovviamente con gli utenti del canale telegram del gruppo platinum perché noi crediamo nella condivisione non nei segnali ma nella condivisione per imparare quindi questo è quello che facciamo noi sui nostri conti lo mostriamo e facciamo capire i motivi detto questo direi che aspettiamo poi i prossimi video quindi aspetterò un po' l'evolversi della situazione farò gli altri video come al solito quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti buongiorno a tutti eccoci arrivati al secondo video dell'operazione su euro sterlina la posizione sta andando verso il basso quindi questa mattina cioè adesso praticamente dopo la mattinata ho deciso di modificare il mio stop in uno stop a profitto dello 0,24% quindi non ho più costi possibili su questa operazione mantengo comunque il mio target a T3 quindi a circa 1 a 2,10 di risk reward però metto a 0,24% il trade come profit bloccato vediamo un po' se tra oggi e lunedì ci dovesse essere un movimento che non va a toccare il mio chiamiamolo trailing profit manuale e va verso il target comunque ve lo farò vedere nel prossimo video a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo ciao eccoci arrivati al terzo video dell'operazione su euro sterlina e come vedete l'operazione è uscita in trailing profit di un più 0,24% quindi non ci lamentiamo per carità anzi vedendo poi cosa ha fatto il mercato come potete vedere è stato assolutamente molto efficace andare a spostare lo stop sopra i massimi di swing di venerdì che poi sono i massimi di questa giornata quindi ho incassato uno 0,24% spostando lo stop appunto con un trading manuale e ci vedremo appunto nelle prossime operazioni un saluto a tutti buongiorno a tutti vi mostro una operazione che ho fatto che si è già chiusa sul dollaro australiano questa posizione era una posizione long creata dopo il movimento di breakout di questa barra quindi dopo questa giornata c'era stato un ritracciamento vedete durante la giornata su grafico a 4 ore in questo modo swing high, swing low e io sono entrato praticamente su questa zona avevo posizionato uno stop su quest'area in definitiva subito nel pomeriggio c'è stato il movimento short che ha colpito il mio stop per pochi pips e poi il mercato è risalito fa parte del gioco ci sono anche questi stop presi così perché ci sta rivaluteremo poi nel prossimo futuro dei nuovi trade perché comunque l'ambiente di questo mercato e la struttura è ancora solidamente long ecco vi ho mostrato questa posizione non ve l'ho fatta vedere subito mi ero dimenticato in realtà di registrarla così adesso mi sono ricordato e l'ho inserita intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima operazione ciao a tutti buongiorno a tutti volevo mostrarvi un'operazione che è entrata poco fa condivisa ovviamente sul nostro gruppo Scuola Platinum è un'operazione short di dollaro franco che è stata aperta per il swing di continuazione up in bar rottura della barra outside weekly con un daily che formava un FTV power con falsa rottura dei massimi precedenti un bel swing assolutamente chiaro e rottura ieri del minimo barra di indecisione e questa mattina proprio sul grafico a 4 ore come potete vedere si è venuto a creare una chiara conformazione di possibile continuazione di tendenza c'è stato un movimento massimo minimo qui c'è stato un massimo di swing poi questa notte vedete c'è stato un movimento al ribasso e questa mattina alle 9 si è venuta a creare un'altra barra che sempre inside di questa che indicava la possibile rialzo per poi recuperare quindi mi sono messo direttamente sell qui sotto che poi era quasi sul minimo della barra outside stop sopra il massimo di swing e in questo caso si ha un ottimo rapporto di risk reward quindi mi sono messo in questo modo su 4 ore come potete vedere eccolo qui e sul daily non è nient'altro che stop sopra i massimi di ieri eccolo qua con un obiettivo inserito in zona T4 cioè l'estensione della FTV power che corrisponde con il T6 della barra di indecisione di ieri e che corrisponde praticamente con i minimi di domanda da dollaro franco praticamente l'area 0,9280 io ho un'area 0,9270 segnata qui sul grafico che arriva dal weekly perché questa zona come potete vedere è una zona chiaramente importante quindi molto molto interessante il tipo di trade rischio sempre dell'1% ovviamente risk reward di quasi 1 a 3 io a questo punto vi saluto e ci vedremo successivamente per i prossimi video dell'operazione eccoci al secondo video ieri il mercato è completamente crollato su dollaro franco io come sapete ero short da qui con uno stop qui con una conferma che avevo avuto a 4 ore e in questo momento direi che il movimento così repentino dei prezzi con una velocità così quindi con la possibilità che lui abbia un recupero anche repentino ho preferito incassare sul movimento di grande volatilità eccolo qua quindi stamattina leggermente sotto su questa zona ho incassato quindi anche qui sono andato anche qui quasi su un 1 a 2 di risk reward quindi molto bene e ho incassato e aspetto magari nuovi swing per rientrare magari corto sul mercato quindi a questo punto altra ottima operazione condivisa con il canale Telegram della Scuola Platinum e ci vediamo alla prossima un saluto a tutti buongiorno a tutti eccoci qui c'è un'altra operazione che ho aperto sul dollaro neozelandese contro il dollaro americano in questo caso avevamo sempre un weekly che era impostato per un nuovo rialzo nei prezzi e un daily che era confermativo nelle ultime giornate con una pin bar qui che ha mantenuto i prezzi al di sopra poi c'è stata queste praticamente due barri inside oggi breccate che hanno portato a fare che cosa ad avere un'impostazione sul 4 ore molto interessante con una barra swing proprio pre rottura eccola qui e quindi molto interessante l'idea di cercare appunto il long su quest'area a questo punto ho praticamente aperto appunto il trade sul breakout di quella zona lo stop è stato inserito sui minimi fatti ieri e il target molto interessante perché pagherebbe circa un 1 a 3 anche qui 1 a 2 quasi un 1 a 3 sui livelli praticamente precedenti potevo mettermi un po' più sopra c'erano delle estensioni che potevano andare un po' più sopra preferisco andare a prendere il profitto su quella zona che è già comunque molto buono e corrisponde con delle zone importanti di vendita quindi ho preferito inserire il target proprio su quella zona lì take profit bene a questo punto direi che al momento è tutto e vedremo poi nelle prossime giornate come andrà l'operazione un saluto buongiorno a tutti eccoci con il secondo video dell'operazione che ho aperto ieri sul neozelandese questa mattina alle 8.45 quando il mercato era sul T3 quindi su questa zona ho deciso di chiudere totalmente l'operazione incansando un ottimo risk reward 1 a 1,60 circa e portando in cassa questo il motivo quindi di non essere andato al target perché ieri c'è stata una barra di estrema volatilità che potrebbe portare a un ritracciamento e poi magari anche un nuovo rialzo ho preferito incassare un movimento così repentino e così veloce e poi magari vedere nei prossimi giorni di rientrare su nuovi swing per oggi è tutto quindi un'altra buona operazione andata a buon fine e tra l'altro in maniera molto rapida quindi bene ci vediamo alla prossima grazie a tutti